Grazie. Però gli stessi archivogi che l'hanno scalata a Scuola e Fabiera e Roberta Giuliani, proprio accettamente, non ricordo quando hanno una pubblica difesa, hanno lanciato due allarme sullo stato dell'unzionizzazione del sottoporto, diciamo così, sul corpo delle altre drame, insomma, che sta tenendo pezzi che aveva ricordato un saici e non avevo detto tutti, ci fa cammino praticamente il giorno sempre tornò lì sotto e ben venuto via. Per essere, non si sa più che faccia, abbiamo fatto determinati ritrovamenti, scavati diciamo alla metà dell'anno 90 e non visitati. E' soltanto un inizio, in un altro capitolo, che si chiama l'intenzione, ma pare che questo sia una voce che non è niente. Il resto, l'altro giorno, con molti famori, mi ha augurato la mia protetta di Vanna, abbiamo avuto sullo stato di quadro che si infiltra l'acqua, si è andato prima, modificando il circuito, si è divertito. Ma è così che è difficile la protetta di Vanna. Ci vuole un capitolo apposta a spesa. Adesso siamo riusciti a ottenere l'acqua, 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 l'acqua. Qualunque cosa deve occupare anche nel destino successivo, se no siamo abbandonati, niente che sia dalla casa in cui vivi, all'invicio, eccetera, niente può vivere senza l'acquintenzione ordinaria, estraordinaria, meglio che ci sia l'ordinario, non che la strada, estraordinaria. Grazie. Pasquale II, nel 1105, che poi voglio dire nel 1106, Pasquale II riassume fino alla vicenda di come i valutai sono nati, non sono stati per lì, di come tutto è stato affidato. Emilia, il quale Emilia, che aveva già tutto nel complesso bizantino figurino, garantito, ha sfruttato molte parti, ha però costruito la critica. Perché nel 1889 arriva, Papa Romano, ha consapevole con le ossa, questo è il storico, il murale riesce a fare la verità. Tutto il resto nel 1106 dice, con guardiamo l'indicazione perfetta estra, cioè che non si avvissi postare completamente, come domus, mox, turname ecclesia. Cioè, dice come domus, che potrebbe voglio dire casa, palazzo, che diventerà una chiesa da un punto all'altro e diventa una chiesa con la realizzazione delle subprendenti. Quello che ha realizzato l'ustazio, dal 1923, in ultimo che ho capito questo, bisogna restare molto attenti, non c'è niente che viene realizzato così, certamente, c'erano i soldi dei normali, c'erano i gerobus che l'avevano annunziato, C'era questo edificio che ancora non si è capito quale rapporto possa avere tutto con la chiesa, perché questa storia della domus, mox, turname ecclesia era una cosa che bisogna considerare. Comunque, quello che stanno realizzando subito è la credita, perché dovevano mettere le ossa e aprire alla reglazione. Ecco perché vi dico, una reglazione importantissima. La stessa cosa è successa a Francia, dove subito hanno realizzato la credita e il porto di ossa, un colpo di grino, che però non hanno consacrato fino al 142, perché i tempi cavallicosi non permettevano, perché era passato il giugno secondo. Dopo, lì, infatti, avevano lasciato tutta la vecchia chiesa, in piedi ancora, anche lì la chiesa, quando gli stiano di Santa Maria, che ha continuato a funzionare, non immaginati, no, dopo il 244, capito? È sempre una storia di caso per caso, di rapporti tra il vecchio rificio e il nuovo. Ma non si faccia delle lettere, è già molto affatto, sono due anni, praticamente, sono da stanza. C'è qualcos'altro? Dica. Ho visto, quando guarda il restauro del provvedimento conclusivo, che il campanello laterale, sulla schiena di strato, sembra sia stato effettuato uno smontaggio e rimontaggio, sembra sia stato staccato.